C'è anche il lussoso Palazzo Veneziano di Cassagredo nella lista dei beni sequestrati per ordine della Procura di Monza che ha emesso 30 misure cautelari di cui 21 arresti per i reati di bancarotta fraudolenta, frode fiscale e riciclaggio. Palazzo famoso per il suo hotel a 5 stelle affacciato sul Canal Grande, ma anche per l'installazione dell'artista Lorenzo Quinn, supporta le gigantesche mani bianche installate per la Biennale 2017 che recentemente si è deciso di far rimuovere. Il sequestro si riferirebbe alla gestione precedente all'attuale proprietà, quella della società Gmail finita con un default e con la messa all'asta della prestigiosa struttura. Su quella società e sull'imprenditore Edile Calabrese, Giuseppe Malaspina, che abita in Brianza, si sarebbero concentrate le attenzioni degli investigatori. L'attuale direttrice di Cassagredo, Lorenza Laine, contattata al telefono ha riferito di non aver ricevuto nessuna notifica di atti giudiziari. La gestione dell'hotel, ha precisato, attualmente fa capo a lei e l'albergo è aperto come sempre. Giuseppe Malaspina, invece, a cui fanno capo una quarantina di società, è accusato, tra l'altro, di avere messo fatture per operazioni inesistenti per una montare di circa 95 milioni di euro e di distrazioni patrimoniali per 234 milioni di euro. Una rete di professionisti e una folta schiera di prestanomi avrebbero consentito di coprire queste operazioni. Ha restati, infatti, anche due avvocati e un ex giudice, Gerardo Perrillo, che prestava servizio alla sezione fallimentare del Tribunale di Monza. L'esposto, che ha dato il via all'inchiesta, che ha portato anche al sequestro dell'hotel Gritti di Milano, è partito da un consigliere di opposizione di un comune brianzolo, che denunciava come, in cambio di tangenti, venissero coperte presunte irregolarità nell'esecuzione di alcuni lavori pubblici portati a termine nel 2010, in modo non conforme al capitolato. Dei 30 provvedimenti emessi dalla magistratura brianzola, 10 sono in carcere. I capi di imputazione sono a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata a reati tributali e felimentari, trasferimento fraudulento di valori, riciclaggio e corruzione. Giuseppe Malaspina, che a Venezia risulterebbe anche proprietario dell'area ex Enel San Giobbe, già storico regio orto botanico cittadino, non è nuovo alle cronache. Il suo nome appare fin dagli anni 70, quando è stato accusato dell'omicidio di Giuseppe Zampaglione, ma negli anni è stato al centro di diverse indagini, tra cui una sul tentato a sequestro del fratello e altre sulla galassia di società che a lui fanno capo, come la Gima, il che sarebbe stato anche oggetto di attentati. Tra i beni sequestrati nell'inchiesta a Lombarda, appunto, anche il palazzo che ospita a Hotel Gritti di Milano, che si trova a pochi passi dalla scala e un maneggio a Oggiorno, in provincia di Lecco. Il palazzo veneziano di Casagredo, dopo una serie di passaggi societari, sarebbe stato trasferito a una società legalmente rappresentata dalla segretaria e storica collaboratrice di Malaspina, prima di essere venduto all'asta dopo il default all'attuale gestione.